Radio Streghetta, l'oroscopo. Salve a tutti, Rinascente Tell anche oggi insieme a voi per iniziare un'altra favolosa giornata. Ascoltiamo quindi il nostro oroscopo oppure chiama 899 48 43 43. Ariete. Segnali di miglioramento su tutti i fronti. In ambito lavorativo vivrete una giornata tranquilla all'insegna della routine e della programmazione. La famiglia riserverà una quieta quotidianità che trascinerà le ore fino a una serata senza sussulti. In amore evitierete di trovare punti di attrito con il partner. Toro. Condividerete un'insolita esperienza, vi ritroverete a vivere una situazione quasi paradossale. Che accanto alla persona giusta potrebbe prendere dei contorni simpatici e divertenti. Il lavoro avrà un ruolo secondario, anche se non dovrete metterlo da parte. In amore dovrete prendere una decisione necessaria. Gemelli. Dovrete stabilire un piano di azione. Se non farete ordine sarà difficile riuscire a coordinare tutte le attività necessarie per ottenere il risultato sperato. E lasciate che vi affianchi, chi vi affianca, possa offrire il suo contributo e ridurrete notevolmente i tempi. In amore darete una scossa a una situazione bloccata da tempo. Cancro. Prendete di petto un problema che da tempo vi infastidisce. In fondo la vostra energia spazzerà via ogni ostacolo che si frappone tra voi e l'obiettivo che vi siete posti. E poi parenti e amici vi saranno accanto per aiutarvi nelle piccole faccende di tutti i giorni. In amore passerete sopra a una piccola dimenticanza del partner. Leone. Userete tutte le vostre abilità per ottenere un risultato. Il lavoro avrà la preminenza su ogni altro tipo di attività. Dovrete fare una scelta importante che manifesterà i suoi effetti solamente tra qualche tempo. Rinuncerete a un vostro diritto per il bene di una persona cara. In amore conquisterete il cuore di qualcuno. Vergine. Situazione in stallo. Cercherete una soluzione che convenga a tutti senza scatenare e scontentare nessuno. Sarà difficile riuscire nel vostro intento a causa della mancata collaborazione da parte di chi dovrebbe capire e lavorare al vostro fianco. In amore vi ritroverete in una fase molto movimentata e complicata. Bilancia. Soldi in vista. Un evento girerà a vostro favore e riuscirete a tradurlo in moneta sonante. Non siate avidi e dividete quanto conquistato con chi ha favorito la vostra azione. In famiglia dovrete cercare di mitigare i rapporti che ultimamente si sono fatti un po' tesi. In amore dovrete placare un senso di inquietudine. Scorpione. Sceglierete una meta da raggiungere. Reale o figurato, il nuovo obiettivo diverrà rapidamente il principale scopo della vostra attività. Rischierete di mettervi in secondo piano non solo ciò che vi è di intralcio, ma anche le cose importanti che dovrebbero avere la preminenzia. In amore deciderete con calma. Sagittario. Un pizzico di tristezza. Vedrete che la vostra autorità all'interno della famiglia non è riconosciuta da tutti e questo potrebbe procurarvi un dispiacere. Ci penserà la sfera lavorativa a tirarvi su, dato che il vostro impegno sarà determinante per raggiungere un obiettivo. In amore qualche discorso vi apparirà incomprensibile. Capricorno. Preziosi incontri in ambito lavorativo. Vi ritroverete inaspettivamente un bel mezzo di una discussione con una persona che avete cercato di contattare da già da parecchio tempo, senza riuscirci. Il colloquio produrrà gli effetti che stavate aspettando. In amore richiamerete l'attenzione del partner sulle vostre necessità. Acquario. Bisogna essere freddi e ragionare. La situazione di certo, che si presenterà, è delle più ingarbugliate, ma saprete trovare una vittoriosa soluzione. In amore troverete il tempo per farvi coccolare. Pesci. Sarete al centro dell'attenzione. In molti vi considereranno un punto di riferimento da cui apprendere. In amore siate spontanei. Perfetti. Sarete al centro dell'attenzione.